I rapinatori operavano nella zona di Palermo, dove mettevano a segno i colpi fermando i tiri che trasportavano merci di ogni tipo. Prima immobilizzavano il conducente, poi sequestravano il camion con tutto il carico e infine rilasciavano l'ostaggio. I tiri venivano portati in un magazzino nella zona Falso Miele e una volta svuotati del proprio contenuto venivano abbandonati in strada. La vasta operazione denominata Ciac, condotta dalla polizia stradale di Palermo diretta dal comandante Antonio Costa, portata a sei richieste di custodia cautelare in carcere. I componenti della banda devono rispondere a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata, la commissione di rapina, mano armata e sequesto di persone e danni degli autotrasportatori. Stando alla ricostruzione della polizia, la mente il cassiere dell'organizzazione era Giuseppe Liguori, gestore dell'unico rifornimento IP in via Leonardo da Vinci. Liguori, oltre ad organizzare i colpi a fornire l'attrezzatura necessaria, tenevano ostaggio usando le proprie armi conducenti dei tir che venivano minacciati, legati e malmenati. L'operazione odierna non è altro che il frutto di un lavoro abbastanza complesso di indagini durate per più di un anno. Come arriviamo ad arrestare oggi i componenti di questa banda che perpetrava rapine sulle autostrade ma anche sulle arterie statali e cittadine. In pratica già nel 2009, nel settembre 2009, abbiamo iniziato ad attenzionare questo gruppo criminale perché la prima rapina era stata proprio perpetrata in autostrada all'altezza dello svincolo di Villa Abate. Dalle coordinate del tracciato del GPS che appunto era installato sul mezzo pesante oggetto della rapina, abbiamo localizzato una cella che bene o male ci portava in un deposito, un deposito sito a falsomiele. Ovviamente restringendo un po' il campo perché le celle, sapete, non sono mai precisissime, abbiamo individuato un deposito e effettivamente in questo deposito ci siamo resi conto che era occultato il mezzo oggetto della rapina.